ciao a tutti ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di in cucina con lo chef con me Antonella Carrieri e con me il nostro chef Nicola Bizzardi oggi prepareremo un primo faremo delle chicche di patate con peperoni funghi e la taggiamo su una salsa allo zafferano quindi bei colori aromatici belle trasmettono appetibilità e speriamo anche il gusto e io penso di sì guarda partiamo nel fare la nostra salsa di zafferano mettiamo un po' di panna pure con la panna ne fai fare sì per essere belle calde panna fresca mettiamo un pizzico di sale un po' di polvere di zafferano puoi girare con del parmigiano che serve per fare la crema quindi lasciamo un attimo arrivare a bollore poi aggiungeremo man mano il formaggio grattugiato e poi renderlo a crema nel frattempo prendiamo il porro che sarà la base della nostra salsa di peperoni e funghi tagliamo così pezzettoni mettiamo in padella olio extravergine d'oliva rigorosamente 100% italiano mettiamo in padella ben calda possiamo mettere il nostro porro andiamo a tagliare i nostri peperoni rossi gialli prendiamoci un po' a cubetti e lasceremo stufare con il porro puliamo il nostro piano in decton dai mille usi e facili abitudini metteremo un pizzico di sale e peperoni taglieremo i nostri funghi pistarelle sottili li faremo cucinare insieme ai peperoni e tè insieme allora si cucina? sì sì però lasciamo un attimo che il peperone si ammorbidisce per poi unire i funghi i funghi fanno prima dei peperoni sì abbiamo utilizzato il pleurotus in questo caso possiamo trovare il cardoncello o uno champignone mettiamo i nostri funghi mettiamo un pizzico di sale la panna sta a raggiunto diciamo sua temperatura mettiamo il nostro formaggio giriamo piano piano dobbiamo abbassare la temperatura o il fuoco lasciarlo sobollire per altri 6-7 minuti senza girarlo? no, sempre girarlo di tanto in tanto e otterremo una bella salsa cremosa caliamo le nostre chicche di patate qui in questa situazione di chicche abbiamo l'80% quindi il massimo come presenza di patate di solito troviamo un 70% in commercio qua abbiamo l'80% ed è veramente gustosa quindi abbiamo un gusto sincero e veritiero delle patate mi piacciono perché sono piccole sono buone le caliamo tutte puoi dare già una girata attendiamo pochi minuti che cucinano le chicche e che si finisce di cucinare i nostri peperoni e funghi eccoci qui, Antonella i nostri funghi e peperoni sono ben stufati hanno un bel profumo e colore io li lascerei ben croccanti così anche se sono morbidi ma nel suo tempo hanno bisogno di qualche altro minuto a me piace sentire sotto i denti la tenacità del peperone e del fungo puoi scolare le chicche di patate io nel frattempo io nel frattempo do l'ultima frustrata alla salsa il zafferano che si è ben amalgamata con il formaggio lasciamo un attimo insaporire le amalgamiamo belle senza un bel profumo sì veramente a casa non resta che provarli per sentire questi profumi che sentiamo noi adagiamo al fondo del piatto la nostra salsa di zafferano non è bello questo giallo bellissimo mettiamo le nostre chicche le patate possiamo decorare se vogliamo con qualche fogliolina di menta qua abbiamo il nostro orto che ci curano con molto vado qui bello un po' di verde il profumo avete fatto pure questo? il piatto mi sembra che trasmetta molta appetibilità perché ci sono questi giochi di colori rosso, giallo il gelino chiaro della chicca di patate il verde della menta profumato non resta che provarlo a casa vi diamo appuntamento alla prossima puntata sempre su questo canale arrivederci 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 da arredamenti spazio cucina vitale pasta alla molisana olearia ortuso del giudice il fiore del latte DS Service unico centro autorizzato Forwerk Folletto e bimbi a termoli